Isola, eliminati nella puntata di ieri, Giorgia torna in Italia, Bettarini con Kaspar La sesta puntata dellIsola dei famosi è andata in onda in prima serata su Canale 5 e si è assistito a una doppia eliminazione. La prima a uscire dal gioco è stata Giorgia Venturini, in nomination la scorsa settimana con Marco e Luca. Una seconda eliminazione a sorpresa, ha visto invece leliminazione di Stefano Bettarini, sconfitto al televoto flash. L'ex calciatore, a differenza di Giorgia, ha accettato di rimanere sullIsola che non c'è insieme a Kaspar Caparoni, continuando così l'avventura all'interno del reality show. Isola dei famosi, la prima eliminata della serata è Giorgia Venturini. . Una puntata scoppiettante quella andata in onda ieri 20 febbraio, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha dovuto affrontare alcuni temi delicati, come quello riguardante Riccardo Fogli, venuto a conoscenza d'un gossip circolante in Italia e riguardante un presunto tradimento della moglie. . In Honduras è sbarcata proprio la consorte Karin Trentini, che ha voluto rassicurare il marito. . Detto questo, si è chiuso il televoto aperto lo scorso mercoledì e che vedeva in nomination Giorgia, Marco e Luca. . A dover abbandonare l'isola dei famosi è proprio la Venturini, subito trasferita sull'ultima spiaggia e dove ha espresso la sua volontà di fare ritorno in Italia, non prima di aver ringraziato tutti per la bella esperienza vissuta. . . In un primo momento Caspar Capparoni è quindi rimasto solo, ma non per troppo visto che nel corso della trasmissione ha avuto luogo una seconda eliminazione. . Isola, puntata del 20 febbraio, Bettarini è il secondo eliminato ma resta sull'isola che non c'è. . Una seconda eliminazione ha colto di sorpresa i naufraghi che, tramite un meccanismo a catena, hanno dovuto scegliere chi mandare in nomination. . Al Televoto Flash, aperto da Alessia Marcuzzi nel corso della diretta, sono finiti, Stefano Bettarini, Aaron, Giosquillo e Sara. . Con il 34 di voti è Stefano a dover abbandonare il gioco, ma poco dopo l'ex di Simona Ventura ha scoperto la possibilità di continuare la sua avventura sull'isola che non c'è insieme a Caspar Capparoni. . . I due quindi, passeranno tutta la settimana insieme e solo lunedì prossimo con l'arrivo di un altro naufrago eliminato scopriremo chi abbandonerà definitivamente il gioco. . In nomination questa settimana ci sono Riccardo Fogli, le sorelle Mihailovic e Luca Vismara, quest'ultimo nominato dal leader della settimana Ghezzal. . 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